. Uomini e donne news, Ludovica Valli pentita del ritocchino alle labbra. Ludovica Valli rifatta? L'extronista di Uomini e donne sui social ammette il ritocchino alle labbra ma, ad oggi, si dichiara pentita di averlo fatto. . Ludovica Valli, dopo la partecipazione a Uomini e donne prima e a Temptation Island dopo, è riuscita a conquistare una grossa fetta di utenti sui social. Per l'extronista, tuttavia, la sua presenza su questi spazi non è sempre stata rose e fiori. . Ad essere preso di mira dai suoi followers spesso è stato in particolare il suo aspetto fisico, giudicato da molti artefatto o, comunque, apparentemente poco sano. . Dalla polemica riguardante la sua magrezza fino a quella che l'accuserebbe di essere ricorsa al chirurgo plastico con troppa facilità, Lavalli è stata presa di mira diverse volte. . Negli ultimi commenti lasciati sotto i suoi post, oggi, Ludovica viene tirata in causa un'altra volta. . A convincere poco i suoi seguaci sarebbero state nello specifico le labbra della ragazza. Ludovica Valli si è rifatta? Nessuna insinuazione questa volta, ad ammettere il ritocchi non nei commenti, alla fine, è stata proprio lei. . Due anni fa le avevo provate anche io scrive in un commento Ludovica mettendo la correzione estetica alle labbra e me ne sono pentita. L'attuale gonfiore sospetto, invece, spiega sempre lei, sarebbe dovuto a dei problemi di circolazione. Tornassi indietro non lo rifarei mai e poi mai aggiunge infine Lavalli. . Alla luce dei fatti la stessa, se potesse tornare indietro, ascolterebbe la madre che, allora, le sconsigliò l'intervento. Ludovica Valli e il rapporto con la sorella Beatrice. . Ludovica Valli ha uomini e donne, come tutti sanno, è stata preceduta dalla sorella Beatrice, corteggiatrice di Marco Fantini. . Il percorso delle due ragazze, però, dopo la partecipazione alla trasmissione di Maria De Filippi, è stato diverso. . Oggi Beatrice Valli vive la sua storia d'amore felice con Marco e da lui ha avuto una bambina, Bianca. . . Qualche mese fa infatti Ludovica aveva pubblicato sui suoi social parole d'affetto nei confronti della nuova arrivata, dimostrandosi così molto vicina alla sorella e al compagno di quest'ultima. . . . . .